ciao a tutti oggi vediamo insieme come realizzare questo portachiavi girasole per realizzare il portachiavi ho utilizzato due gomitoli di cotone fiocco uno marrone e uno giallo un uncinetto uno e mezzo un ago con la punta per sistemare i fili e per attaccare poi il portachiavi avrò bisogno anche dell'ovata per l'imbottitura inizio da un anello magico e vado agganciarmi con una catenella ok dopo di che vado a lavorare il suo primo giro 6 maglie basse ok adesso tiriamo la codina del anello magico e andiamo iniziare il secondo giro prima però vado a mettere la mia codina segnapunti in modo che sto quando finisce un giro allora metto da una parte all'altra e vado a continuare allora e vado a fare quindi il secondo giro per il secondo giro come chiede lo schema del cerchio andiamo a fare praticamente 12 maglie basse quindi dovrò fare un aumento per ogni maglia sottostante sempre nello stesso punto vado a fare un'altra maglia bassa e faccio la stessa cosa per ogni maglia che mi trovo sotto quindi una maglia bassa e sempre nello stesso punto un'altra maglia bassa quindi lavoro tutto il giro fino ad ottenere 12 maglie basse ecco qua allora vado a iniziare adesso il terzo giro quindi sposto la codina marca punti e vado a iniziare il terzo il terzo giro dovrò fare 18 maglie basse per cui dovrò lavorare una maglia bassa e un aumento ok quindi questo schema quindi una maglia bassa una maglia bassa un aumento lo dovrò ripetere per sei volte quindi fino ad ottenere 18 maglie basse ecco qua quindi sposto il filo marca punti inizio il quarto giro e per il quarto giro dovrò andare a lavorare un totale di 24 maglie basse per cui lavoro due maglie basse singole e poi un aumento quindi due maglie basse e un aumento per sei volte fino ad ottenere 24 maglie basse ok vado a lavorare il quinto giro sposto il filo marca punti in avanti e lavoro 3 maglie basse singole quindi una due tre e un aumento anche questa volta lo schema lo ripetiamo sei volte fino ad ottenere 30 maglie basse per tutto il giro ok ecco qua quindi a questo punto posso togliere il filo marca punti e allungo il filo e taglio ora ne vado a rifare un altro identico però sul secondo non taglierò il filo una volta arrivato a questo punto vediamo poi come continuare senza però tagliare il filo ecco qua quindi il primo eccolo e questo è il secondo ne ho fatto uno identico a quello che vi ho fatto vedere solamente che non vado come vi dicevo a tagliare il filo adesso perché li devo unire allora quindi prendo tengo questo cerchietto e prendo l'altro facendo attenzione di metterli e praticamente rovescio contro rovescio in questo modo e adesso vado semplicemente a unire i punti quindi vado prendo il punto diciamo questo successivo inserisco l'uncinetto e inserisco anche da quest'altra parte prendo il filo che va al gomitolo questi me li porto dietro i fili le codine per nascondere e poi vado a lavorare delle maglie basse semplicemente quindi vado avanti prendo il punto successivo e il punto successivo dell'altro magari tengo anche separate se fate difficoltà poi man mano che il lavoro avanza è più semplice e vado a fare quindi questa unione con la maglia bassa questo e quello successivo e faccio quindi questa questa lavorazione fino ad arrivare poco più della metà dopodiché ci fermeremo un attimo per inserire l'ovatta ecco qua vedete ho formato una piccola taschina dove adesso andrò a infilare l'ovatta quindi ne metterò un po' fino a quando non è abbastanza riempita non deve essere proprio piena 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 direi che così basta è importante che dia un po' di spessore ecco ora possiamo continuare a diciamo unire fino alla fine ed ecco qua adesso semplicemente allunghiamo il filo tagliamo e andiamo a sistemare la codina ed ecco qua adesso vado a prendere il giallo e andiamo a fare i petali allora prendiamo il giallo quindi e andiamo a iniziare i petali vedete che questa parte rimane un pochino più accurvata mentre questa ha una punta diciamo un pochino alla forma quindi la parte che deve rimanere sopra è questa non questa con la curva ok andiamo quindi a vedere come fare allora prendiamo l'uncinetto e andiamo a prendere il filo in questo modo e andiamo a lavorare subito due catenelle su una maglia qualsiasi quella che è adesso andiamo sulla maglia successiva e portandomi dietro il filo per nasconderlo vado a lavorare quindi sulla maglia successiva una maglia alta poi lavoro una maglia altissima sempre nello stesso punto e poi sempre nello stesso punto ancora un'altra maglia alta a questo punto lavoro due catenelle e vado sul punto successivo lascio il filo che è nascosto poi lo taglieremo o lo nasconderemo e mi aggancio la maglia successiva con la maglia bassissima ora ricomincio quindi lavoro due catenelle sul punto successivo vado a lavorare una maglia alta sempre nello stesso punto sempre nello stesso punto una maglia altissima e poi un'altra maglia alta sempre nello stesso punto lavoro due catenelle e mi agaccio con la maglia bassissima sul punto successivo e ricomincio quindi lavoro tutti i petali che riesco a fare per tutta la circonferenza ecco qua quindi quando arrivate all'ultimo petalo terminate con le due catenelle allungate il filo e tagliate ok quindi lasciate il filo abbastanza lungo perché questo ci servirà anche per attaccare il porta chiavi e andate a uscire da dove abbiamo iniziato quindi andare a puntare l'ago proprio al primo punto che abbiamo lavorato in questo modo tirate bene e poi facciamo un puntino nella parte dietro ok qua adesso questa parte davanti adesso prendiamo il porta chiave senza togliere l'ago dal filo e andiamo a posizionarlo su una punta diciamo del di un petalo quindi dobbiamo portare il filo sulla punta quindi lo passiamo attraverso le trame fino a sbucare una punta ok adesso prendiamo il porta chiave quindi infiliamo l'ago sull'ultimo anello in questo modo e semplicemente andiamo a cucire quindi passiamo un punto sulla punta del petalo e uno sull'anello ripetiamo questa operazione alcune volte finché vedremo che è ben fermo ok adesso semplicemente andiamo a fermare il filo lo andiamo a nascondere come sempre sulle trame usate sempre un'ago appuntito così si incastrerà bene il filo nelle trame e sarà molto più complicato poi farlo scucire ok ora possiamo tagliare ecco qua il mio portachiavi al girasole è terminato anche questo video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti